Il turinese Andrea Scarpa ha conquistato a Londra il titolo di campione del mondo VBC Silver della categoria dei pesi superleggeri. Allievo di Tony Di Rienzo alla palestra Combat di Moncalieri, Scarpa è stato campione italiano intercontinentale IBF. Lo hanno ricevuto a Palazzo Lascaris il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, il vice Nino Boeti e il presidente della Giunta Sergio Chiamparino. Un successo che la proietta ancora di più verso la grande box. Sì, è stato veramente un successo non inaspettato ma quasi, anche perché in Inghilterra sono pochi che vincono, soprattutto gli italiani. Gli inglesi hanno una marcia in più, hanno una box molto più radicata nella loro cultura e sono veramente forti. Alla fine siamo riusciti a fare un match bello, importante e ce lo siamo portati a casa. È stata veramente una bella emozione.